Yo, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi è la giornata dedicata al K-pop Oggi proveremo a fare una rec-show dance sulla canzone L'outfit che ho provato a riprendere, il colore dominante più o meno Guardando un pochino più le scene Ho visto qualcosa di giallo nella parte superiore Quindi felpa, maglietta, così, se non sbaglio Felpa sicuro, c'era uno che aveva la felpa gialla Usano i jeans e cappellino Utilizzerò questo cappellino qua con anche un po' di giallo E poi dei jeans normali, chiari, ok? Poi una felpa gialla, semplice E poi un po' di giallo L'unno è una opinione che non mi fai Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Grazie a tutti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima